Ciao a tutti ragazzi, sono Sparvi ed è il mio compleanno No vabbè, a parte questo, volevo fare una specie di vlog, sì è un vlog Volevo fare un... L'aereo, non so se si sente Volevo fare questo vlog, a parte per farvi vedere che ho comprato la webcam nuova che è questa qui Come potete vedere c'è una grande differenza con quella vecchia perché... Questa è... Registra 720 HD, 720 pixel Comunque sto utilizzando anche il microfono della webcam Perché questo video può essere anche utile per chi vuole comprare Vi dico il nome direttamente, Logitech C525 Sto utilizzando la webcam e il microfono perché c'è un vlog tipo test audio Test audio, test test, test di tutta la webcam, compreso anche l'audio E niente, comunque volevo dirvi delle cose abbastanza importanti Allora qualcosa brutta, qualcosa, qualcosa, qualcosa bella La bella è che è il mio compleanno Sì La prima notizia brutta è che non mi ricordo qual era la notizia brutta Ah sì, la notizia brutta è che non so quale canzone mettere di sottofondo a questo video Vabbè, poi vedrò Metterò la canzone del trolling Ok La seconda notizia brutta è che purtroppo si sono cancellati tutti i dati del computer Più o meno qualche giorno fa Per questo non sono usciti i video Infatti l'ultimo che ho fatto è stato lo scherzatore anvi su Facebook Si è cancellato tutto Ho solo reinstallato il programma che uso per editare, montare, fare e tutto il resto E poi tutto il resto purtroppo è andato perso Ho scaricato due giochi da fare Che sono free to play e anche abbastanza farini E niente, ho installato un po' questi due giochi che farò in questi giorni E quindi quando dico ho perso tutto Vuol dire anche Outlast con i suoi salvataggi Mi ero incazzata ancora di più perché oltre ad Outlast e i salvataggi Si era cancellato anche un video che era pronto Dato che si sono cancellati tutti i dati di Outlast Sto pensando di fare un solo video dove me lo rigioco Quindi mi ci vorrà un pochino di tempo Cioè se in questi giorni non escono video è perché mi sono giocato Outlast tutto da quel punto Ho montato il video Ci vuole un casino di tempo però vabbè cerco di farvelo E quindi ricapitolando devo giocare di nuovo Outlast Da solo E quindi ragazzi questa era una notizia che volevo dirvi Niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto E quindi ragazzi ci vediamo domani con un nuovo gioco E tra l'altro sarò il primo in Italia a farlo E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao ragazzi